Beh cugina mia, oggi che cosa si mangia? Calamarata con melanzana e pesce spada Taglia le melanzane, prima il lungo e poi a tocchetti e ripeti lo stesso passaggio con il pesce spada Nell'olio buono fai rosolare due spicchi di aglio e poi aggiungi i cubetti di pesce spada Dopo una rosolatina veloce, sfuma con il vino bianco e appena evapora, togli il pesce spada Nella stessa padella, rosola la melanzana a pezzetti aggiungi i pelati, un po' di sale, un po' di pepe pezzi di basilico e lascia cuocere Cuoci la calamarata e scolla l'aldente del sughetto aggiungi i tocchetti di pesce spada e manteca bene Un altro po' di basilico se ti piace E assai! E vedi che ti mangi!